La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha ribadito ancora una volta. Questo territorio sarà completamente bonificato. Vedrete presto i frutti di questo lavoro. Lo ha detto al termine del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, tenutosi all'Istituto Morano di Caivano, insieme a ministri, rappresentanti di istituzioni e magistratura. E la sicurezza è uno dei pilastri su cui poggia il piano di azione del Governo, insieme al ripristino dei servizi necessari, come il recupero del centro sportivo lasciato al degrado e teatro, o presumibilmente delle violenze subite dalle due bambine di 10 e 12 anni. La palestra verrà data alle fiamme oro, verrà ripristinata. Le risorse si stanno individuando, i canali di finanziamento. Inoltre c'è il tema del controllo di un territorio in cui lo Stato, come ha affermato la Premier, ha fallito. Ha detto che ci saranno interventi immediati e immediatamente visibili. I rinforzi arriveranno abbastanza presto. Il capo della polizia parlava dell'11, non ricordo se settembre-ottobre, altrettanto per quanto riguarda la compagnia stanno finendo dei corsi e poi comunque il controllo del territorio continuerà. Particolare attenzione anche alle proposte presentate dai rappresentanti della magistratura che nei prossimi mesi saranno in contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano. Al termine della visita della Premier, il ministro Matteo Piantedosi, insieme al capo della polizia Vittorio Pisani, si è recato in visita alla caserma dei Carabinieri di Caivano, dove è stato fatto un bilancio del lavoro compiuto dalla sua istituzione e al commissariato di polizia di Afragola.